Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un'ottima Fiat 500 Longe 1.3 Multijet dell'anno 2011 con 95 cavalli e motore in tecnologia Euro 5. Vettura unico proprietario con 113.000 km originali percorsi, mai incidentata, si presenta in un bellissimo grigio oscuro metallizzato, abbiamo fasce paracolpi sulle portiere con logo 500, ruota in lega da 15 pollici, tetto panoramico in cristallo, fisso non apribile, questa è la versione del 150esimo anniversario, abbiamo degli interni tenuti veramente bene rispetto di tante 500 che alcune volte hanno interni veramente indecenti a causa della tipologia di tessuto, ecco i 113.000 km percorsi, radio cdmp3, viva voce blu&me, tasto ct per il servo sterzo, climatizzatore automatico con ASR e sistema di start and stop, naturalmente il cambio è manuale 5 rapporti, vetri elettrici, porta USB e AUX, vi mostro anche il sedile posteriore, direi che una 500 veramente in ordine, disponibile in pronta consegna, la vendiamo con 12 mesi di garanzia legale di conformità, vi aspetto a Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla, grazie.